sbarcata ad ancona la ocean viking in arrivo seconda nave di propoli tagliava pneumatici a fano la polizia lo arresta mentre si masturba cavalca ferrovia appaltato l'ultimo step di lavori qualità dell'aria pesero maglia nera delle marche nel 2022 ecco il carnevale di fano fra cena grassa lotteria e getto una buona serata amiche amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di mercoledì 11 gennaio apriamo con alcune immagini dello sbarco della nave ocean viking di sos mediterraneo che avvenuto ad ancona torno alle 22 di ieri nave con a bordo 37 profughi di cui 12 minori soccorsi nel mediterraneo e fatti sbarcare nelle marche secondo la nuova direttiva governativa volta a disimpegnare i porti del meridione uno sbarco che si è svolto con ordine con la prefettura anconetana regista della gestione dell'accoglienza la ocean viking è ripartita questa mattina alle 11 è atteso invece per domani alle 8 sulla stessa banchina d'orica l'arrivo della nave di medici senza frontiere geo barens con 73 migranti a bordo tra cui 18 minorenni salvati a largo della libia c'è un colpo di scena nel processo per l'omicidio di marcello bruzzese fratello delle pentito di indrangheta girolamo ucciso a pesaro in via bovio il giorno di natale 2018 alla seconda udienza infatti la corte di assise di pesaro ha riportato alla fase delle indagini preliminari il processo per il 57enne calabrese rocco versace accusato di concorso nell'omicidio avvenuto per mano di due sicari la corte ha infatti annullato la richiesta di rinvio a giudizio che i pm 12 avevano depositato ad agosto non sarebbero infatti stati rispettati i tempi che per legge devono trascorrere tra l'avviso di conclusione indagini e la richiesta di rinvio a giudizio dovrà quindi essere di nuovo notificato l'avviso di conclusione indagini poi la richiesta di rinvio e l'udienza preliminare prima di poter avviare un nuovo processo ed ora ci spostiamo a fano dove nei giorni scorsi erano state trovate una quindicina di auto con i pneumatici tagliati atti vandalici ripetuti per i quali oggi la polizia ha individuato e denunciato il responsabile per il quale come vedremo in questo servizio si è aggiunto anche il reato di atti osceni in luogo pubblico non appena due giorni fa la denuncia da parte di alcuni proprietari di una quindicina di auto in queste ore la denuncia da parte della polizia di stato l'indiziato è un uomo accusato di aver tagliato gli pneumatici di una quindicina di veicoli posteggiati nei parcheggi vicino al centro storico di fano i fatti risalgono alla notte tra l'otto e il nove di gennaio che aveva portato le forze dell'ordine sulle tracce dei possibili teppisti le telecamere di video sorveglianza al vaglio degli inquirenti hanno portato la polizia a seguire i movimenti di un cittadino italiano e della sua auto che usava per gli spostamenti una volta individuato visivamente i poliziotti hanno intercettato il veicolo con l'uomo a bordo e una volta che il soggetto ha parcheggiato il mezzo incurante dei passanti ha iniziato a masturbarsi dopodiché le forze dell'ordine hanno perquisito l'auto di proprietà del sospettato dalla quale è stato rinvenuto un paio di forbici che presentava ancora residui di gomma riconducibili ai pneumatici forati l'individuo è poi stato sottoposto dal col test risultando positivo al controllo la questura di pesero urbino al netto dei gravi episodi ha vietato all'uomo la circolazione nel comune di fano e segnalato al servizio di salute mentale per gli approfondimenti medici del caso l'indiziato è stato denunciato per reati di danneggiamento e di porto senza giustificato motivo di oggetti atti a offendere denuncia estesa anche per atti osceni luogo pubblico e guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente l'indagato non è ancora stato considerato colpevole in attesa della sentenza definitiva e proseguiamo con la crona che lo facciamo attraverso le segnalazioni di voi telespettatori che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato che vedete in sovraimpressione 3 7 0 3 6 6 7 2 1 0 ringraziamo a tal proposito lorenzo nostro telespettatore che ci ha inviato queste immagini che arrivano da morciola dove ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti inviagandi per il rovesciamento di una piattaforma con cestello che stava facendo lavori di manutenzione ai piani alti di un palazzo si è sfiorata la tragedia con la caduta dell'uomo che stava lavorando nel cestello che fortunatamente si è fermata su un terrazzo mantenendolo praticamente illeso dal rischio di caduta da un ultimo piano l'incidente è avvenuto attorno alle 17 ma ci sono volute ore per rimettere in sesto il mezzo e in sicurezza l'area di morciola ed ora andiamo su pesero dove si sta apparecchiando la strada per completare uno dei cantieri più complessi della città quello che riguarda il cavalca ferrovia è stata infatti scelta la ditta che si occuperà dell'ultimo step dei lavori finanziati per quasi 3 milioni di euro e per cantieri che dureranno almeno un anno giorni importanti per uno dei lavori più complessi di pesero quello del cavalca ferrovia un lavoro cominciato nel 2019 e che in questi giorni ha una svolta per quello che riguarda lo step ultimo con l'assegnazione della ditta che si occuperà del prossimo stralcio di lavori si è un'arteria strategica per la città importantissima e che ci vedrà quindi impegnati per tutto il 2023 in un intervento complicato complesso e delicato importante come dicevo sono tre milioni finanziamenti ottenuti da un bando il bando ministeriale del ministero dell'interno poi transitate nelle risorse pnr che ci consentiranno quindi di andare a sostituire i cordoli ammalorati andare a sostituire le barriere laterali prevedere una nuova illuminazione un'illuminazione che riprenderà anche quella storica quindi con la realizzazione di una strip led e di un'illuminazione invece per la messa in sicurezza potenziata della strada e come dicevo un intervento che quindi da da oggi da ieri in realtà ci ha consentito di individuare la ditta con cui avvieremo il cantiere hanno presentato c'è stata una manifestazione di interesse di 183 ditte da queste 183 ditte sono state sorteggiate 10 tra queste 10 ditte quattro erano della provincia di pesero orbina sono state invitate a presentare l'offerta e da ieri la ditta brandi costruzioni e la ditta con cui andremo in questa fase appunto a definire il cronoprogramma e la tipo e gli interventi. L'ha già giudicato un lavoro complesso in prospettiva si prevedono anche restrizioni limitazioni della circolazione? Sì un lavoro complesso perché durante alcune fasi della lavorazione in particolare quelle che insistono sopra gli attuali binari dovremo andare a concordare insieme a RFI le varie lavorazioni che avverranno durante le ore notturne probabilmente avverranno anche fermando la circolazione dei treni e quindi andremo in sinergia così come è avvenuta la fase di progettazione esecutiva andremo a condividerle con loro mentre per la circolazione in questo momento non sono previste delle restrizioni o dei cambiamenti che limitano o che modificano la viabilità ordinare della città. E se il cavalcaferrovia è uno dei cantieri più lenti della città non lo è da meno la lentezza per la collocazione di un edificio inutilizzato da anni come l'ex Bramante per il quale però come vediamo in questo servizio spuntano nuove proposte. Nella conferenza di bilancio di fine 2022 il sindaco di Pesaro Matteo Ricci aveva aperto aspiragli importanti per il futuro dell'ex Bramante nell'anno nuovo ed ora le ultime indiscrezioni aprono una pista in tal senso. Parliamo dell'imponente edificio che vedete alle mie spalle edificio che si trova al confine tra centro storico e zona mare ex Bramante che è di proprietà di cassa depositi e prestiti che da tempo sta sondando la possibilità di acquirenti per questo edificio. E sembra appartenere a questa categoria l'università privata Link che ha sedi a Roma e Napoli e che sarebbe interessata ad allargarsi sulle Marche. Regione in cui da mesi sarebbe stato individuato proprio l'ex Bramante come sede idonea e per la quale la Link avrebbe già inoltrato richiesta a regione conferenza di rettori per poi fare altrettanto con il ministero dell'università e della ricerca. L'idea è quella di creare a Pesaro lo spazio per corsi come medicina, chirurgia e scienze della formazione primaria. Al momento non ci sono conferme da parte del Comune che starebbe mettendo sulla bilancia se la necessità di trovare una destinazione al palazzo con un ateneo privato che si farebbe pure carico degli oneri di ristrutturazione possa andare in conflitto con la recente apertura dei corsi allargati su Pesaro negli ultimi anni dall'Università Politecnica delle Marche. Di certo resta il fatto che il Comune ha necessità sempre più impellente di dare un futuro a questa struttura strettamente legata agli oneri di urbanizzazione per l'idea di l'interramento della statale all'altezza di Viale della Repubblica e della stessa riqualificazione di Largo Aldomoro. Pesaro assieme a Chiaravalle è la città che nel 2022 ha sforato più volte il limite di concentrazioni di polveri sottili e quanto emerge dal report di fine anno sulla qualità dell'aria registrato dalle 17 centraline disposte da Arpam nelle Marche. La centralina di via Scarpellini a Pesaro ha sforato il limite per 31 giorni in un anno avvicinandosi al numero massimi di giorni consentiti per sforamenti che è fissato a 35 in un anno. 24 giorni di sforamento rilevati anche dalle due centraline di Ancona, 24 giorni anche nell'unica centralina di Fano. Dati migliori invece ad Ascoli Piceno con 10 sforamenti e soprattutto a Macerata che ha superato il limite in soli due giorni e ad Urbino soltanto in un giorno. Oggi 11 gennaio è trascorso un anno dalla scomparsa di Davide Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo e figura politica molto vicina alla città di Pesaro, città che attraverso il Partito Democratico ha voluto ricordarlo con un'esposizione installata nel Palazzo del Comune. L'Europa è la vera chiave del nostro futuro, questo è uno dei tanti pensieri che oggi e domani il gruppo consigliare del Partito Democratico di Pesaro ha voluto mettere in bella mostra sotto il Palazzo del Comune, nel loggiato e nel porticato delle Comune. Davide Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo e figura molto vicina a Pesaro, perché il Partito Democratico sceglie di dare questa rilevanza a questa ricorrente? Davide Sassoli ha inaugurato la Sonosfera il 6 gennaio del 2020, perché proprio questo progetto della Sonosfera, come poi è stato ricordato alcune settimane fa in occasione dell'intitolazione della Sonosfera a Davide stesso alla presenza della moglie, aveva intuito questo progetto anche in un'ottica di transizione ecologica, ambientale, temi molto cari a lui nella sua azione di presidente del Parlamento europeo, per cui siamo vicini oggi a questa figura, nel primo anniversario della sua scomparsa, per questo motivo con cui è legato la nostra città, ma oggi vogliamo anche ribadire le azioni del suo pensiero e lo facciamo attraverso alcune letture e attraverso l'esposizione di questi pannelli, con foto e alcuni brani dei suoi discorsi, proprio perché la saggezza e l'audacia, che è il titolo del libro che è uscito l'altro ieri, presentato da diversi esponenti della cultura e della politica democratica, con una prefazione del presidente della Repubblica Mattarella, veramente serve oggi più che mai l'audacia di un pensiero europeo che rimane vivo e nonostante le ombre dobbiamo continuare a proporre, a sostenere e a lavorarci tutti i giorni. Ecco, per cui il ricordo di David oggi ci impegna a raccogliere la sua eredità per l'Unione europea sempre più prospettiva del nostro futuro. E nello stesso loggiato del comune dedicato alla commemorazione di Sassoli è stato installato anche il 58esimo defibrillatore automatico del progetto Pesaro Città Cardioprotetta, acquistato grazie alla donazione di 2.000 euro fatta dai gruppi consigliari del Consiglio Comunale al Comitato di Pesaro della Croce Rossa italiana. Si tratta di un ringraziamento per il lavoro svolto nei corsi di formazione alla defibrillazione destinata ai consiglieri che proseguirà anche nel 2023 per diffondere sempre più le procedure del primo soccorso. Rispetto al passato, la Giunta Comunale di Vallefogli esprime ora parere negativo sulla costruzione del biodigestore a talacchio. Secondo la Giunta Ucchielli sono infatti cambiati i presupposti. Infatti, se inizialmente il progetto doveva soddisfare il bisogno provinciale e coinvolgere tutte le aziende a partecipazione pubblica, sembra che ora Aset venga lasciata fuori. Nel frattempo, dice la Giunta, è stato approvato un altro progetto da 40.000 tonnellate nella Valle del Metauro che comporterà un sovradimensionamento dei due impianti per le necessità della provincia. Secondo il sindaco Ucchielli, nell'ultima versione del progetto sono anche scomparse proposte di miglioramento per far sì che il progetto fosse più sostenibile. Ed ora concludiamo il nostro telegiornale avvicinandoci al Carnevale di Fano che nel 2023 torna con tanti appuntamenti a cominciare dalla cena grassa in beneficenza del 17 di gennaio. Sul calendario segnava febbraio 2020 l'ultima volta che il Carnevale di Fano si celebrava nella sua classica forma. Ora, a distanza di tre anni, causa Covid, ritorna la Kermesse fanese nelle sue vesti tradizionali, riabbracciando gli eventi che dal 1347 lo caratterizzano. Nelle domeniche del 5, 12 e 19 febbraio saranno ben 14 i carri che sfileranno, colorando di festa e travestimento le vie della città. Carnevale di Fano che però debutta formalmente circa tre settimane prima con la cena grassa, evento benefico in programma il 17 di gennaio. Quest'anno torniamo alla grandissima, apriamo il 17 di gennaio, il giorno di Sant'Antonio Abate dove nella tradizione contadina si ammazzava il maiale con una cena grassa, una cena di beneficenza. daremo tutto il ricavato all'Unione Italiana Cieca e i povedenti e grandi chef, tra cui il famoso Antonio Ciotola, cucinerà per noi e i consiglieri dell'ente carnevalesca serviranno ai tavoli. Quindi non mancate al Mediterraneo Show Restaurant e le prenotazioni si possono fare proprio al ristorante Mediterraneo. Altra cosa di cui non posso non parlare è il getto dei dolciumi che quest'anno è affidato alla ditta Dulciar, una ditta della provincia di Bari, una ditta a conduzione familiare di grande qualità che si è voluta avvicinare al Carnevale di Fano. Altra cosa importante torna la lotteria del Carnevale, i biglietti sono disponibili da subito anche in carnevalesca e in varie associazioni con cui avremo la possibilità di continuare a fare della beneficenza e dove si vinceranno grandi premi, il primo premio, una macchina offerta dalla Ford. Quindi grandi novità, grandi classici che tornano al nostro Carnevale, il Carnevale è di tutti noi, di tutta la regione Marche. Quindi amiamolo, tesseratevi a l'ente carnevalesca, entrerete a solo un euro al Carnevale. Grazie a tutti. Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali della provincia di Pesaro e Urbino. E facciamo un passo in avanti a domani, giovedì 12 gennaio, torna insieme a Canestro, come sempre in diretta alle 21.20, come sempre in compagnia del nostro Marco Cadeddu e delle interazioni con voi telespettatori e tifosi da casa che potete commentare e interagire con i nostri ospiti al numero Whatsapp dedicato 370-366-7210. Ospiti che sono il pivo della Carpegna Prosciutto Basket Dejan Kravic e Enzo Belloni che è allenatore di settore giovanile di basket, oltre che noto assessore del Comune di Pesaro. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.